Benvenuto o bentornata, nel video di oggi faremo una pratica di 15 minuti di yoga per studenti intermedi. Lavoreremo sulla forza e sul coraggio, due delle qualità che vogliamo sviluppare a lezione sul tappetino ma poi portarci anche fuori dalla pratica nella vita dei tutti i giorni. Il mio nome è Stefano, se vorresti approfondire la tua pratica di yoga ti invito a iscriverti al canale e iniziamo subito nel cannaffaccio in giù. Parti con le ginocchia piegate, focalizzati sul pressare le mani, attirali una verso l'altra e ruota bene gli omeri verso l'esterno. Inspira addomino dentro, espirando estendi attraverso le braccia, distendi completamente i gomiti, prova a fare spazio nella colonna. Con la prossima ispirazione sguardo tra le mani, passo avanti col piede destro a fondo, distendi la gamba sinistra spingendo dall'interno coscia verso l'alto, addomino dentro in particolare a destra, espirando provi a scendere un po' di più col fianco destro ma continui a fare resistenza con la coscia sinistra che spinge verso l'alto. Espirando passo indietro col destro, ancora adomukha svanasana, estendi bene la colonna, con la prossima ispirazione sguardo tra le mani, passo avanti col sinistro a fondo, distendi bene la gamba destra spingendo dall'interno coscia verso l'alto, addomino dentro in particolare a sinistra, espirando provi a scendere un po' di più col fianco sinistro, mentre continui a spingere l'interno coscia destro verso il cielo. Di nuovo mani a terra, espirando adomukha svanasana, kana faccia in giù, sollevi entrambi i talloni, stringi le tipie verso il centro e enfatizzi l'interno coscia che spinge indietro per proiettare gli ischi al cielo. Inspira addomi in dentro, espirando provi a distender le gambe e riportando i talloni verso terra adomukha. Con la prossima ispirazione ripieghi le ginocchia, porti la pianta del piede destro al cielo, piede destro verso sinistra, aprì l'ancara, radichi il tallone sinistro a terra, ispirando riallinea adomukha a tre zampe, spalle sopra i polsi nell'espirazione, ginocchio destro oltre il gomito destro, piede destro all'esterno della mano destra. Appoggi il ginocchio sinistro a terra, mani a coppa, ispirando cerchi di aprire il petto, espirando pieghi i gomiti verso l'esterno e ti inchina all'interno della gamba. Se riesci puoi portare i gomiti a terra, mani intrecciate. Inspira profondamente e espira lentamente. Se hai spazio puoi provare a distendere la gamba sinistra, sempre spingendo dall'interno coscia. Poi lentamente riappoggi il ginocchio sinistro, di nuovo mani a terra, passo indietro col destro, adomukha svanasana, inspira spalle sopra i polsi, tavolo, pressi forte le mani, le attiri una verso l'altra, ruota gli omeri verso l'esterno, ispirando scivoli con le spalle in avanti, chaturanga. Collo dei piedi a terra, ispira addomino in dentro, ti apri nel cobra, e ispirando adomukha svanasana. Di nuovo ripiega un po' le ginocchia, piede sinistro verso il cielo, piede sinistro verso destra, apri l'anca, radichi il tallone destro a terra e distendi la gamba destra. Ispirando, tiri a linee nel cana a tre zampe, spalle sopra i polsi, nell'espirazione ginocchio sinistro al gomito sinistro, piede sinistro all'esterno della mano sinistra aperto a 45 gradi. Mani a coppa, appoggi il ginocchio a terra, ispirando pieghi gomiti verso l'esterno, poi se riesci provi a intrecciare le mani, gomiti a terra. E in ultimo, se vuoi puoi ridistendere la gamba destra, sempre spingendo dall'interno coscia indietro per liberare un po' di più il bacino. Inspira ed espira profondamente. Poi riappoggi i ginocchi a terra, di nuovo, mani a terra, passo indietro col piede sinistro, adho mukha svanasana. Inspira, spalle sopra i polsi, palakasana. chaturanga dandasana nell'espirazione, urva mukha svanasana, kanafaccia in su nell'ispirazione, e espirando ancora adho mukha svanasana, kanafaccia in giù. Con la prossima ispirazione, di nuovo, sollevi il piede destro verso il cielo, espirando spalle sopra i polsi, ginocchio destro al petto, spingi con le mani sul tappetino, attiri le costoli in dentro, provi a salire un po' di più col ginocchio destro. Inspirando, di nuovo, piede destro al cielo, espirando di nuovo, spalle sopra i polsi, ginocchio destro stravolta al gomito sinistro, apri il piede verso sinistra, braccio sinistro al cielo e ti apri. Superstar. Inspira, espira profondamente. Ispirando, riappoggi la mano sinistra a terra, piede destro indietro, espirando chaturanga, ispirati, apri il kanafaccia in su, espira adho mukha svanasana, kanafaccia in giù. Inspira ed espira profondamente. Con la prossima ispirazione, piede sinistro al cielo, espirando spalle sopra i polsi, ginocchio sinistro al petto, attira una mano verso l'altra, estendi attraverso le braccia, attiri le costole in dentro, avvicini il ginocchio al petto. Inspirando, di nuovo, kanafaccia in giù a tre zampe. Espira, ginocchio sinistro al gomito destro, piede sinistro verso destra, apri il braccio destro verso il cielo, superstar. Inspirando, riporti la mano destra a terra, piede sinistro indietro, tavolo, chaturanga nell'espirazione, ti appoggi a terra, collo di piedi a terra, ispiri cobra. E' espirando ancora. Adho mukha svanasana, kanafaccia in giù. Con la prossima ispirazione, sguardo tra le mani, porti i piedi al centro del tappetino, scendi col bacino, apri le ginocchia verso l'esterno, ti inchini col busto, porti il ginocchio destro verso la scella destra, il ginocchio sinistro verso la scella sinistra, risali col bacino, inspira addomino in dentro, espirando vai in avanti, comincia a turanga. Con le ginocchia abbracci il centro, con i tricipiti fai resistenza e provi a salire un po' col bacino. Inspira profondamente, con la prossima ispirazione, piedi indietro, chaturanga dandasana, inspira, ti apri nel cobra, e ispirando, adho mukha svanasana, kanafaccia in giù. Con la prossima ispirazione, sguardo tra le mani, passo avanti col piede destro, ginocchio sinistro a terra, apri il piede destro a 45 gradi verso destra, appoggi la mano sinistra a terra, aperta a 45 gradi verso sinistra, ispirando, attiri un piede verso l'altro, provi a scendere un po' di più col gluteo destro verso il tallone, con la prossima ispirazione, sollevi il tallone sinistro verso il gluteo sinistro, la mano destra va a prendere la caviglia sinistra dall'esterno, inspira addome in dentro, cerchi di attirare un po' di più il tallone verso il gluteo, piede al martello, e ispirando ti apri, è una torsione, ispira, e ispira profondamente, con la prossima ispirazione riporti la mano destra a terra, passi indietro col destro, adho mukha svanasana, ispira spalle sopra i polsi, chaturanga dandasana nell'espirazione, urva mukha svanasana nell'ispirazione, adho mukha svanasana, kana faccia in giù nell'espirazione, con la prossima ispirazione sguardo tra le mani, passo avanti col sinistro, ginocchio destro a terra, io nel frattempo sto facendo praticamente otto yoga, qui è caldissimo, apri il piede sinistro a 45 gradi verso sinistra, appoggi la mano destra a 45 gradi verso destra, mano sinistra alla coscia, ispirando attiri un piede verso l'altro, prova a scendere col gluteo sinistro verso il tallone, poi stacchi la punta del piede, inizi a salire col tallone destro verso il gluteo, la mano sinistra prende la caviglia destra dall'esterno, ispirando attiri il tallone verso il gluteo e ispirando col piede calci indietro e ti apri, ispira e ispira profondamente, cerca di rimanere col bacino in basso e aprire la parte anteriore del corpo, con la prossima ispirazione rappoggi il piede destro a terra, passi indietro col sinistro, scendi completamente a terra, pieghi le ginocchia, ginocchia aperte come le anche, a luce a contatto, ispirando ti apri in un piccolo cobra, mantenendo l'addome in dentro, vai a prendere le caviglie con le mani, ispira di nuovo attiri l'addome, ispirando prova a salire un po' di più col petto, se riesci stacchia anche le cosce, da anurasana, ispira ed ispira profondamente, poi lentamente scendi di nuovo a terra, ripassi alla quadrupedia, piedi larghi come il tappetino, adho mukha svanasana, ginocchia piegate, con la prossima ispirazione sguardo tra le mani, ginocchio destro dietro la mano destra, piede destro dietro al polso sinistro, pressa forte l'esterno del piede destro, ispirati apri, ispirando pieghi i gomiti verso l'esterno, puoi andare o sui gomiti mani intrecciate, o camminare avanti, e ti abbandoni, nella preparazione a racchia kapottasana, ispira profondamente, pressa forte l'esterno del piede destro, ispirando prova a lasciare andare un po' di tensioni, nella zona del gluteo destro, ispirando cammini indietro, passo indietro col destro, adho mukha, ispirando sguardo tra le mani, ginocchio sinistro dietro al polso sinistro, piede sinistro dietro al polso destro, ispirati apri, pressa forte il piede sinistro, ispirando tinchini, puoi intrecciare le mani, con i gomiti a terra, se vuoi, scivoli in avanti con le mani, ispirati, ispirati ed ispirati profondamente, ispirati profondamente, con la prossima ispirazione lentamente risali, sedi sul gluteo sinistro, porti il piede destro, oltre il ginocchio sinistro, preparazione Ardha Mazzia Andrasa, inspira, abbracci la tibia, ti allunghi verso l'alto, mano destra indietro, e ispirando vai in torsione, puoi o abbracciare il ginocchio col gomito, o portare il gomito oltre la coscia, ad ogni ispirazione fai spazio tra le vertebre, ad ogni ispirazione provi a ruotare un po' di più, ispirando torni al centro, cambio, piede destro sotto, piede sinistro oltre il ginocchio destro, ispirando abbracci la tibia, ispirando vai in torsione, mano sinistra dietro, puoi o abbracciare il ginocchio, o portare il gomito oltre la coscia, ispirati, fai spazio tra le vertebre, ispirando approfondisci la torsione, ispirati profondamente, ispirati lentamente, Con la prossima ispirazione ritorni al centro, siedi nella posizione a gambe incrociate che preferisci, dolcemente appoggi le mani sulle cosce e chiudi gli occhi, riporta l'attenzione al respiro, inspira profondamente e espira lentamente. Con la prossima ispirazione allunga la colonna verso l'alto, espirando rilassi un po' le spalle lontano dalle orecchie, lentamente ritorna al respiro naturale, rilassa i muscoli del viso, rilassa gli occhi, la mandibola. E dolcemente esposti la tua consapevolezza al tuo centro, alla base del cuore. Da quel punto osserva le sensazioni del tuo corpo alla fine della pratica. Sperimenta la pienezza nel respiro, la leggerezza nel corpo, la quiete della mente. Ecco la prossima ispirazione, dolcemente riporti le mani verso il cielo, ti allunghi verso l'alto, unisci i palmi ed espirando scendi con i palmi a contatto davanti al cuore. Ringraziati per esserti presa questo momento per praticare e chiudiamo la pratica con un OM. Espira completamente, mi inspira profondamente. Dolcemente inchina il viso, riappoggia le mani sulle cosce e quando sei pronta a riaprire gli occhi. Grazie ancora per aver praticato insieme a me. Se la lezione ti è piaciuta fammelo sapere nei commenti. Se vorresti sperimentare altri tipi di lezioni scrivimelo sempre qui sotto. Io ti ringrazio ancora per il tempo che mi ha dedicato. Ci vediamo alla prossima pratica. Namaste.